La chiesa parrocchiale di San Polo Storico, per diversi mesi oggetto di lavori di restauro, è stata finalmente riconsegnata alla comunità domenica 4 novembre, alla presenza del Vescovo Monsignor Pierantonio Tremolada. L'intervento di ristrutturazione costato 590 mila euro si è concentrato sulle volte, per renderle sicure e impermeabili. Gli interventi svolti sono stati di consolidamento di tutta la volta della chiesa, perché c'erano stati dei problemi per cui crollava all'interno. In seguito, nella struttura della chiesa, abbiamo rifatto l'illuminazione, l'impianto audio, l'impianto voci e questo ci permette di gustare la bellezza di questa chiesa, che anche se moderna, è molto legata alla gente. Con questi lavori è stata completata l'opera originaria, che era rimasta incompiuta. Siamo nella periferia di Brescia, nel quartiere di San Polo, grazie all'otto per mille della chiesa cattolica italiana, siamo riusciti ad intervenire, iniziare i lavori per la ristrutturazione di questa chiesa, che era inagibile, quindi era chiusa ai fedeli. Gli stessi parrocchiani, in particolare i più anziani, tra i primi benefattori, ora possono affermare che la chiesa è davvero come l'aveva pensata Don Luigi Barberis. Grazie. Grazie.